Anche se ormai siamo un povericcio. Una partita che non ci sentiamo per aiutare la sconfitta. Cosa ti abbia assunto di queste partite? Infatti abbiamo preso quattro a Roma e non sono tanti per due partite. E com'è andata soprattutto a Perugia? Non mi è piaciuto che in tutte e due partite è il primo tempo, non siamo abbastati a livello che io aspettavo. La partita di casa e anche andare fuori. Adesso che non siamo entrati alla partita come io voglio vedere la squadra entrare nella partita. Specialmente in Perugia abbiamo mancato la voglia di vincere la partita. La partita si può vincere, perdere o pareggiare. Dal primo momento se deve provare a vincere la partita. Non siamo stati convinti, non avevamo avuto la intensità. Dico, non è una partita dove siamo stati brutti. Penso che siamo stati brutti, però non siamo stati come volevamo stare. Dopo ci sono episodi che ricicliano le partite. Una partita che non è stata dominata da parte di Perugia. Non possiamo dire che Perugia ha fatto non uscire il proprio campo a Spezia perché non è vero. Però sì, in un episodio ha fatto la squadra in sicura. Ho avuto tre, quattro, cinque minuti di non stare 100% nel campo e questi cinque minuti abbiamo preso due gol. Dopo la reazione è stata buona, non me ne abbiamo dimostrato. Grazie a tutti.